La nascita delle Olimpiadi Moderne Il 6 aprile del 1896, nello stadio Panathinaikò di Atene, alla presenza del re Giorgio I di Grecia, venivano inaugurate le prime Olimpiadi Moderne. Un evento che farà finalmente rinascere il mito delle antiche Olimpiadi della Grecia classica. L'Olimpiade si tenne in uno stadio, il Panathinaikò, da poco riscoperto a seguito di alcuni scavi archeologici, nel 1870. E che era stato successivamente ristrutturato a spese dell'uomo d'affari greco Evangelis Zappas. La manifestazione ospitò 241 atleti provenienti da tutto il mondo, che si misurarono in nove discipline sportive. Lo svolgimento di questa prima Olimpiade fu la fine di un lungo percorso iniziato tanti anni prima. Già con l'affermazione della rivoluzione francese si assistette, alla prima edizione delle Olimpiadi in onore della Repubblica Francese. Una manifestazione sportiva, inventata dal deputato giacobino Charles Gilbert Romm, che si svolse il 22 settembre 1796, presso la grande spianata di Campo di Marte. Alla presenza di centinaia di migliaia di spettatori, che si assieparono per vedere le gare delle quattro discipline sportive in programma. Ma fu la maturazione della società ottocentesca, con la possibilità di avere più tempo libero da dedicare all'esercizio fisico, che creò le condizioni per la nascita di più organizzate manifestazioni sportive. La svolta verso la definizione dei giochi avvenne invece nell'Inghilterra vittoriana, grazie all'azione di un medico. William Pennybrook, pedagogo ed educatore, Brook, al fine di promuovere la forma fisica degli abitanti e dei lavoratori cittadini, organizzò nel villaggio di Makhwenmakh, le Olimpiadi di Wennoch, una competizione di giochi ginnici e atletici, che si svolsero il 22 e 23 ottobre 1850 presso l'ippodromo cittadino. Riscuotendo un tale successo, che subito furono organizzate nuove e più imponenti manifestazioni sportive, anche in altre località dell'Inghilterra. Intanto i legami con gli ideali del mondo classico greco si facevano più stabili. Nel 1859, in occasione delle Olimpiadi greche di Zappas, il comitato di Wennoch inviò denaro per garantire premi per i vincitori. Le Olimpiadi di Zappas erano organizzate dallo stesso Zappas, che aveva partecipato a recuperare lo stadio Panathinaikò. Esse furono il primo revival in terra greca delle antiche Olimpiadi classiche. Essi svolsero per la prima volta nel 1859, prevedendo la sola partecipazione di atleti greci. Intanto i movimenti sportivi in Europa e in America prendevano sempre più consistenza e vigore. Spesso durante le esposizioni universali si poteva assistere a gare sportive internazionali. E proprio sull'onda di questa crescita che in Francia il barone de Coubertin, uno storico e pedagogo sportivo, cominciava a mettere insieme i tasselli per creare un movimento olimpico mondiale. De Coubertin era sicuro dei benefici che avrebbe avuto lo sport sulla salute e sulla formazione dei giovani. Arrivando persino a giustificare l'amara sconfitta della Francia nella guerra franco-prussiana, con la mancanza di esercizio fisico da parte dei militi francesi. Nel 1890, de Coubertin incontrò William Penny Brooks durante le Olimpiadi di Wenlock. Rimanendo favorevolmente impressionato. Lì, il suo disegno di organizzare delle nuove Olimpiadi moderne, prese definitivamente corpo. Nel 1892 e negli anni successivi, de Coubertin organizzò una serie di congressi che si svolsero alla Sorbona di Parigi, proprio con lo scopo di avvicinare i giovani allo sport. Arrivando al primo congresso olimpico del 16 giugno 1894. Quando fu finalmente sancita la rinascita delle Olimpiadi da parte di un neonato comitato olimpico internazionale. In un primo momento le Olimpiadi erano da disputarsi in concomitanza con le esposizioni universali. In modo tale da sfruttare anche il traino di un evento già ampiamente affermato, che si era dimostrato in grado di richiamare spettatori da tutto il mondo. Tanto che furono organizzate nel 1900 a Parigi e nel 1904 a St. Louis in America, proprio in concomitanza con le già programmate expo locali. Ottenendo, per contro, il risultato di vedere offuscato l'evento sportivo. Proprio in virtù del forte richiamo dell'esposizione, all'epoca manifestazione decisamente più affermata. Nel congresso del 1894 però, vista la distanza di sei anni rispetto a Parigi 1900 e vista l'importanza simbolica della città di Atene, si fece un'eccezione. Si definì di organizzare le prime Olimpiadi in onore della Grecia classica nella città di Atene per il 1896, dando così il via al fenomeno dell'Olimpiade moderna. Olimpiadi, che oggi sono giunte alla 32esima edizione, toccando tutti i continenti del pianeta e arrivando a rappresentare la manifestazione sportiva più importante del mondo.